Perché l'hai ucciso? Che è successo prima del coltello? Eri lassù da morto? Perché non sei scappato? PER LA MISERIA DI QUALCOSA Fa un culo io mollo. Interrogare una macchina è uno spreco di tempo, non si ottiene nulla. Potremmo sempre usare le maniere forti. Dopotutto, non è umano. Gli androidi non sentono dolore. Lo danneggeresti così, poi non parlerebbe più. I devianti sono inclini all'autodistruzione, se si trovano in caso di stress. Ok, cervellone. Cosa dovremmo fare? Potrei interrogarlo io. Cosa abbiamo da perdere? Prego. Il sospettato è tuo. Cosa ho? Ma che cazzo sta facendo ora? 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 Ascolta, sono dalla tua parte Ma che cazzo sta facendo ora? Cazzo sta facendo? E non è colpa tua? Perché? Perché gli hai detto che cazzo sta facendo ora? Perché non è colpa? Non posso? E non è colpa? Ma che cazzo sta facendo? facevo? paura che cazzo sta facendo? e non è colpa? hai scritto? io sono vivo? e che cazzo sta facendo? che cazzo sta facendo? che cazzo sta facendo? è colpa? che cazzo sta facendo? ma un giorno? ma un giorno ho capito? ma un giorno ho capito che non era giusto? ho provato rabbia? ho capito? ho capito? ho capito? ho capito? ma un giorno ho capito? ho capito? ho capito? ho capito? i去 sp которых fermalo cazzo! io ... io non riesco non riesco a fermarlo adesso non riesco wam Parti immediatamente! Attenzione! Porca puttana! Parti immediatamente! Festa di famal Almosti Abassime band Locked dale Grazie a tutti.